Ma buon dia a tutti amici di doppia frizione Siamo tornati in questo di doppia frizione reaction finalmente Non mi ricordo che settimana siamo, forse la diciassettesima Ho i capelli alla Dragon Ball, nel senso che sono tutti sparati in aria Faccio Genki-Dama tra un po' E direi di iniziare subito col video Ok, il video parte ora Ok, Forza Raccoh Asort Bianca e rosa, dritto, dritto, dritto Si è messo su un fianco così Dall'altra prospettiva, attacca Maron, non è mai bello vedere un Serra Croshort Oh, dritto ponte Madonna che botta Albero, alberissimo L'ho visto da lontano mio che ha il tiro verso l'albero Oh, mica era scodino Su due ruote si è rimesso subito Non torna For focus Oh, eeeh Minchia, proprio sono passato qualsiasi cosa Octavia Scoda Octavia Non hai una sospensione da quello che mi dicono Guarda, guarda, continua ad andare Altra scoda, Fabia Ah, po', moretto Scoda Fabia Mi ha perso la ruota questa direttore Oh Oh Ma Ma Va bene Subora in presa non mi sembra molto da Eh Porco Canche Tegola Toglietevi dalle bolle Toglietevi dalle bolle Toglietevi dalle bolle Ok Honda Civic Eeeh Dritto, dritto Ooooo Madana Cioè, proprio le sospensioni le mandate proprio a far curvi Renault Krios Fossino Fossino E vai giù così Un Volvo Che si cappotta Chissà dove Probabilmente in Finlandia Fiesta Era dopo che non vedevamo Fiesta Girare per rally Eeeh Due ruote Cappottone Vediamo se riparte Dai, sono solo due specchietti No, no Fai vedere Cayman Un Cayman Un Cayman È distrutto un Cayman Vabbè Comunque Fiesta Eeeh 306 Oh Il kit Il kit Due ford escort Oh, coca anche botta Eh, tira giù le staccionate Te ne hai in mente, eh Oh, che bella Turbo Oh mio Dio Fuori, fuori, fuori Oh No, raga, no Subarino Rungo Ruote Aia Escort Lo supero così Attenzione Oh Piano Ha perso una ruota Porsche senza Attenzione Posteriori Non è un Porsche Infatti si è fermato Eeeh Boom Cioè Saxo 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 Oh Tac Tac E continua Ha fatto tutti i moretti Del mondo Oddio Questo qui BMW È un buon Un buon Il Drifting Si va Eeeh Fuori Minchia è in birico Proprio aveva messo 207 Oh Oh S2 C'era un tipo Mamma mia Eh niente Che botta Un punto Un C2 Vabbè Qualcosa era Twingo Muro Non ci sono più Ci sono Ok Krio RS Giù da un fosso Madonna che botta Saxo Questo mi ricorda Un altro incidente Con un saxo Che è memorabile Quell'incidente E continua Eeeh Giù dal burrone Giù dal burrone Che focus Micchia è Sto 206 Che bello Bellissimo Bianco Così Non è Motore del 206 Mai Così è un kart Kart cross Eeeh Yacar Porco Va bene Sempre Yacar Uh Uh Ah Botta 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 Quei gommetti Oh mio dio Oh mio dio Che botta Si Non c'è più la macchina Che donna Ha fatto 5 6 cappottoni Oh Tieni Ah Ha preso L'interno Curva Dove c'era proprio Una cunetta E' iniziato a rotolare Questi Così Non si sono Proprio più fermati Opa Che auto è poi Toyota Mi chiesto la skoda Guarderei Guarderei Si è fatto tutto Non ha più una ruota Immaginavo Manoposto Cono scarata Tac Sempre su quella curva Poi Lugissimo Grattare con le mano Questo non deve essere Proprio il massimo Della comodità Oh mio dio Oh mio dio Ha perso il controllo Mentre che cambiava marcia Che cos'è E' una gara di camion Tipo camion cross C'è un ileco Minchè si sono cappottati Minchè si sono cappottati Minchè si sono cappottati Ma veramente Sono un camion Cazzo Voglio vedere Queste gare Oh mio dio Troppo l'interno Si è cappottato così No dai Non mi puoi dire A queste cose Va bene Autocross Oh mio dio Un maggiorino rosa Che vola via Per i campi Va a uccidere persone Come ha fatto A cappottare così tanto In un ovario Adesso me lo spieghi Ma dai Ma gli americani Non sanno fare un cazzo Ma va Ma va che roba Ok ha vinto Ha vinto Dovete frenare Dovete frenare E niente Era finita la gara Vabbè Vai a capire Ok Passiamo al campionato Oh Non mi ricordo Come si chiama il campionato Minchè Si sono messi uno Sopra l'altro Niente Oh Oh Si gira V Brutto 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 Minchè Quando rientra Sicuramente qualcuno Deve andare in cura Attenzione E invece no La sospensione Rotta Ah È una cosa di prima Non l'avevo capito Madonna Non mi ricordo Il nome del campionato Puttaneva Ok Attenzione Due ruote Ecco Oh Dai Ci può riuscire No niente Non lo fanno vedere Oh NASCAR Mario Butta fuori Così Madonna che te Guarda che ha tirato Contro al muro Interno Dei box Oddio Questo qui è andato lunghissimo È andato a prendere un altro Oh Due Tre macchine coinvolte Uh Ok Altro Uh Ha frenato È andato in culo Vediamo quante auto coinvolge Nessuna Nessuna Drifting Sezione Due Due macchine Mamma mia In mezzo Mamma mia Poi sì Oddio Cos'è È un estintore Ha perso qualcosa È un estintore Qua guarda È un estintore Va bene MotoGP però È Asia Road Racing E questo qui Ha fatto un'high side Incredibile Attenzione È campionato Non so Come si chiamano 150 150 c'è scritto Oh Mamma mia Mamma mia Che è in tre Sono caduti Come è fatto In tre Cadere Vabbè SS 600 Madonna Che mucchione Che c'è Porco Cane Ok Stava per fare Un RKO Quello che è In piedi E gli è proprio Saltato sopra Gli vuole a fare RKO Non ci è riuscito Oh Oh Iside Oh Toglietemi 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 Ho visto dei video Così che non erano molto belli Ritorniamo a 150 Ritorniamo a 150 Ritorniamo a 150 Ma che la via È un grande Ritorniamo a cur... Toglietemi I subitorni Toglietemi È un' когдаria Toglim è la carta Ci è la carta Guarda Il mio I abitrimmo Kanene Sì and ti thankfully Argo Oh PAC progetti Anglia ольшincitari non capisco, va bene oh, un'ultima GTR contro il muro madonna, toghi, ti dici che prende fuoco tutto via, minchia è volato fuori, proprio, ha fatto Superman, via madonna, ha preso bene il fuoco pensate voi quanto infiammabile può essere la benzina da gara unchio, oh, cappottone e rimane anche cappottato in mezzo alla sabbia oh, 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 sabbiappa non capisco che macchina è siamo dentro un cateram oh, frena, frena, ABS, non c'è, non c'è l'ABS bene, perfetto dire qualcosa niente, non dice un cazzo campionato argentino che bello, campionato argentino cosa succede qua? oh, contro il muro, in fondo contro il muro, muro vediamo cosa succede oh, ma che è successo? oh, qualcuno l'ha spinto contro il muro probabilmente va, 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 che roba, va, che roba ma come si sente bene poi, probabilmente l'avranno messo in cassetta mamma mia oh, oh, attenzione ok, vabbè solo tre macchine coinvolte oh, no, 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 no eh niente che botta oddio 주 ee oh bu Massimo bu Massimo non so che campionato sono però Mamma mia Ah è troppo Quasi però Questa qui è gokenai Gokenai me ring Questa qui non lo so Comunque c'era Cos'è successo? E' esplosso un tubo dell'acqua O del radiatore Vabbè Attenzione Questa qui è partito Prima di qualsiasi altra persona Nel mondo proprio C'è Madonna È partito proprio prima prima Oh è uscito Oh ritorna in dio Che botta Brutta brutta Oh Cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Lorenzo Colombo Vabbè Reno Cup A Monza ovviamente Oh Fuori Oh ritorno in mezzo Ah Frontale Due macchine Due macchine coinvolte Tre macchine Oh mia che botta Oh break pain Oh Che botta Oh Oh Wee Buro Però guardate quanto cazzo sono resistenti queste macchine C'è una roba C'è proprio lo spi Ma Questo qui è quello che ti meriti per aver spinto A caso un altro Se uno è un Porsche All'interno Fuori Tutte e due Tutte e due fuori Ci ho provato almeno Oh il Coca anche botta Mamma mia Oh fuorissimo Lamborghini fuori Ma proprio fuori Fuori È arrivato negli per spazio Oh Via 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 Ci sono dei commissari di gara in mezzo al circuito di Monza No no Oh MX5 Oh Niente Spaccato il cerchione Poverino Qui non ne poteva niente questo Dai Ok Oh Perda il controllo Tutte e via Niente C'erano tre macchine Sono rimaste due Va bene Indica Sirius Attenzione Non si vede niente Non si vede niente Oh In mezzo Oh Frena 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 No via 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 Ok Sono riusciti a Togliersi Oh 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 Ma guarda che ho Ma che c***o Ma Ma Vabbè Lo portava avanti lui Oh GT3 Madonna che botta Sarà stato il 150-200 euro Quella roba Porco Cane Anche il BRZ Contro Buon signori Anche questo Questa settimana Del reaction Degli incidenti È finito Vi rimando Ai prossimi video Anzi Vi rimando direttamente Al video Della mia nuova macchinina Eh Tra cui Dovrò fare Un bel po' di video Dovrei farci Eh Martedì No mercoledì Probabilmente uscirà Un video Di un raduno Ad un prossimo video Di un prossimo video Di un prossimo video